Bella ragazzi e benvenuti a questa nuova recensione a cado dell'episodio, non mi ricordo che numero è, 241 di Boruto, titolo dell'episodio Il Segreto di Ikada. Allora, allora, com'è questa puntata? No? Avete capito, no? Ok. Non serve assolutamente un cazzo, è una puntata inutile come tante altre e cosa succede? Eh vabbè, ve lo devo raccontare. Allora, iniziamo la puntata, ci fanno vedere un signor anziano e un altro, giovane, che stanno aspettando su un'isola e sta arrivando la nave della sorella di Ikada, che abbiamo visto alla fine della puntata scorsa. Arriva la nave, loro tutti, eh, tieni, guarda, abbiamo portato il tesoro, eh, di qua siamo contenti che siete tornati, guardi là. Lei, però, incazzata come una iena, dice, voi, appena mio padre è stato catturato cinque anni fa, voi mi avete tradito, anzi ci avete tradito. E loro, no, no, noi, noi non abbiamo tradito nessuno, no, per carità, per carità. Lei tira fuori la spada e ammazza il vecchio. Gli fa un colpo alla Mioc contro Zoro, così, cade a terra, il vecchio è morto. Quindi ci fanno vedere la ragazza, comunque la sorella di Ikada, dice, minchia puttana, quanto cazzo spacca i culi, ma soprattutto quanto cazzo è cattiva. Quindi succederà qualcosa con la sorella di Ikada, è chiaro, se no non c'entrava cazzo questa puntata. Ora ragazzi ci spostiamo proprio da Ikada, che ha finito un lavoro sulla nave, ma per fare un ultimo lavoro ci vorranno due o tre giorni. Quindi non è tantissimo per una nave così grande, lo dice anche Boruto, beh, due o tre giorni, dai, va bene, e poi avranno finito. Ikada lì comunque tutto contento, anche perché il maestro gli ha detto bravo, bravo, beh, solo perché gli ha detto bravo, Ikada super gasatissimo. Una cosa ragazzi, che poi vi dirò anche più avanti, Ikada non sembra un doppio giochista, nel senso sembra un ragazzo, sì, sappiamo che era della famiglia di Funato, anzi che è della famiglia di Funato, perché ancora fa parte della famiglia di Funato, però ha scelto un'altra strada. Quindi non è un doppio giochista che fa finta di essere un carpentiero, comunque lì. Lo fa perché è quello che vuole fare veramente, o almeno per adesso è così. Al tramonto ci fanno vedere Ikada e Boruto che stanno mangiando un piatto tipico di quelle zone lì, e Boruto quando l'assaggia super buono, super fomentato, che bello, che bello, che bello, Ikada gli dice, vorrei, con chiaramente il proseguo degli anni, con l'esperienza e tutto il resto, costruire questa nave, fare il giro, come ho detto, per il mondo, e portare anche questa roba da mangiare in giro per il mondo, quindi lo porterò anche al tuo villaggio. Poi probabilmente lo farà, ma a noi. Partiamo se è chiaro. Che cazzo ce ne frega. Arriviamo, ragazzi, adesso alla mensa. Non sto scherzando, c'è proprio una mensa dove vediamo Iwabe che sta cucinando, vediamo Kagura servire ai tavoli. Io, ragazzi, vi ricordo che Kagura è una persona parecchio importante, sì, adesso gestisce una prigione, un carcere, ma comunque è una persona importante. Vederla servire ai tavoli, i primi deficienti che vedi, ok, vabbè, per Iwabe ci può stare, per Kagura meno. Ora, ragazzi, ci spostiamo in questa casupola, dove dentro praticamente c'è solamente il letto, la televisione e basta, ci sono due letti, che sono due letti a castello, dove ci dormono i carcerati. Non è che sono legati lì, non è che devono stare lì per forza, però hanno questo posto dedicato a loro. E stanno discutendo di adesso torniamo a casa, avremo una riduzione della pena, erano anche abbastanza contenti, anzi, la ragazzina, quella piccola con l'ago da cucito, è anche un po' più contenta degli altri di questa cosa. E è anche strana questa cosa, perché io posso capire l'altra ragazza, che ha avuto comunque un rapporto con Kagura, un rapporto, non in quel senso lì, comunque ha avuto un rapporto con Kagura, con Boruto, con Kawaki, lei, bene o male, è sempre stata col bestione, non è che abbia fatto tutto sto granché, però la vediamo un po' più fomentato, comunque un po' più positiva degli altri. Ora ragazzi arriviamo alla scena dove vediamo la sorella di Ikada che va per l'appunto a incontrarlo. Lo incontra, parlano, discutono un attimo, ci fanno vedere anche un flashback, che Ikada, quando era piccolo, erano tutti in un posto, in un'isola molto piccola, quindi il padre, i fratelli, lui, quando era anche più piccolo, è stato preso dal padre e buttato in acqua. Ikada, boom, ti butto in acqua. Perché l'ha buttato in acqua? Per vedere se Ikada aveva dei poteri. E effettivamente, ragazzi, Ikada sembra avere dei poteri, lui ne è inconsapevole, perché era piccolino, è stato buttato in acqua, non riusciva a respirare, a un certo punto è successo, è arrivata un'onda gigante, ha bagnato tutti, e Ikada era sull'isola, svenuto però. Quindi non sappiamo ancora che poteri ha, da quello che mi sembra di ricordare il drago d'acqua, una cosa del genere. Comunque sì, ragazzi, da quello che abbiamo visto in questo flashback, prima c'era tipo una tempesta in quest'isola, dopo che Ikada è stato buttato in acqua, è tornato su, è finita la tempesta. Quindi non so, non so se c'entra con il potere di Ikada, probabilmente sì, però lui ancora non lo sa usare e discute con la sorella, dice io no, io non voglio venire con voi, io voglio continuare a fare questo mio sogno, lei incazzatissima lo prende per il colletto, gli dice non rompe gli goioni, tu servi al nostro clan, il tuo potere serve al nostro clan e dice verrò a prenderti stasera e se ne va. Mentre se ne va, incrocia Boruto. Boruto stava per l'appunto andando verso Ikada e lei vede Boruto, quindi vede che ha il coprifronte della foglia e dice quindi mio fratello quando ha detto che è stato sconfitto dai ninji della foglia parlava di Boruto, anche di Boruto. Ci fanno anche capire che succederà qualcosa, che sì, Ikada verrà preso dalla sorella e portato al clan, ok, ma vogliono anche uccidere i ninja della foglia, quindi la sorella di Ikada vuole anche uccidere i ninja della foglia. Ora ci spostiamo da Kagura che incontra al molo Kawaki. Kawaki era seduto al molo che si faceva i grandissimi cazzi suoi, arriva Kagura e gli dice oh, voglio far due chiacchiere, te va? Kawaki dice un po' come cazzo, c'è, che me frega a me. E comunque Kagura racconta, cioè racconta, in brevissimo, sì, racconta che lui era su una brutta strada, gli stavano insegnando male, è arrivato Boruto e l'ha salvato, cose che già sappiamo, e Kagura vuole fare la stessa cosa che ha fatto Boruto con i carcerati, cose che sappiamo già, sì, però ce l'hanno ridetta. Arriva Sarada e gli consegna un rotolo a Kagura che dice guarda, questo è arrivato dal Nuzukage, leggilo. Vanno tutti in una baita e leggono questo rotolo. E c'è scritto che i tre carcerati avranno una riduzione della pena di tre anni. Tre anni sono pochi, cioè, sono pochi tre anni anche per quello che hanno fatto. Vabbè, comunque, sono pochi e la ragazzina, quella con il filo, quindi la criminale, era fuori dalla baita e ha sentito tutto di questi tre anni e se ne va. E va a riferire, chiaramente, agli altri dei tre anni e gli dice, oh, regà, a me non mi sta bene sta cosa dei tre anni, l'unica cosa che dobbiamo fare è scappare. E l'altra gli dice, senti, zia, noi possiamo anche scappare, ma a Kagura ci abbiamo il sigillo, quindi se noi scappiamo, caput, ci crepiamo. È vero, fa, allora dobbiamo uccidere Kagura. Questo lo ridice sempre la ragazza con il filo. Ma, a differenza della cosa che mi aspettavo, gli altri dicono, senti, a me, sinceramente, non mi va. Quindi, se vuoi farlo, lo fai da sola. Quindi, sia la ragazza che il bestione non seguono l'altra criminale con il filo. Tutto quello che dovrà fare, lo dovrà fare da sola. Perché non voglio andargli dietro. Perché? Il bestione non sappiamo il perché, penso ci sia anche lui un po' affezionato un po' come i cani. Invece, l'altra ragazza, Budan, mi pare che si chiami, ha, per appunto, ripensato a quello che ha fatto Kagura per lei, che l'ha salvata. Quindi non vuole andargli contro, mi sembra anche giusto. Fanno rivedere la sorella di Ikada che torna sulla sua nave e dice, preparatevi perché stasera attaccheremo. Uccideteli tutti tranne uno. Chiaramente parlando dei ninja. Uccideteli tutti tranne uno perché quell'uno che rimane in vita dovrà andare in giro per il mondo e dire quanto siamo pericolosi. Arriviamo a notte fonda, chiaramente la ragazzina che voleva uccidere Kagura se ne va dalla baita e va nella baita di Kagura. Vede che Kagura sta dormendo, comunque vede qualcosa sotto il cuscino e lo arrotola col filo e lo pugnala. Kagura è morto. No, perché Kagura sicuramente Kagura questa cosa se l'aspettava. Sì, infatti accende la luce ed era dietro la ragazzina. La prende e no, poi sono minorenni. Kagura avrà 16 anni. No, mi scherzo, chiaramente. Si scherza, si scherza, si scherza. Discutono un attimo e ne dice io me ne andrò, non voglio tornare per avere solo tre anni di sconto e scappa dalla finestra rompendola. Kagura arriva alla finestra la guarda un po' così e fa portacci su amarotta la finestra e ora c'è un freddo della madonna come farò? Dormi, sta deficiente. Non l'ha detto ma lo pensava. vediamo la ninja che è scappata da Kagura camminare al porto e da lontano vede una nave che si sta avvicinando e per l'appunto è la nave della sorella di Kada che sta arrivando per uccidere tutti, uccidere i ninja e prendersi Kagura. Cosa farà lei? Entrerà a far parte dei Funato? Invece no, tornerà indietro ad aiutare gli altri? Non lo sappiamo. Lo vedremo nella prossima puntata. E niente ragazzi che dire, io spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un bel pollice in su se non vi è piaciuto chiaramente pollice in giù e bella ragazzi per favore supportate la serie di Boluto supportatela anche se queste puntate fanno cagare fatelo per me non fatelo per Boluto ma per me per favore.